Questa volta si parte da Brescia, da mamma a mamma, nella città di Nadia Toffa, ad omaggio del suo impegno professionale ed umano in favore di Taranto, dei bambini tarantini e della lotta di un territorio che continua a fare i conti con un'alta percentuale di tumori infantili. Cappellini lungo l'Italia per raccogliere fondi per il reperto di oncoematologia pediatrica della città bimare. Le principali protagonisti saranno le mamme cicliste che in cinque regioni, dalla Lombardia fino alla Puglia, si alterneranno a mio fianco a supportare le mamme che in quel reparto a Taranto purtroppo combattono tutti i giorni. Se da mamma a mamma il claim dell'edizione 2023 del progetto Io Pedalerò per Te, l'idea si può dire sia nata da padre a padre. Sono stato scelto da un angioletto, c'è chi ci crede e chi no, ha chiesto aiuto e come padre a supporto di un altro padre non potevo che non immergermi in questo progetto da mille chilometri. Ho scelto queste distanze per lanciare un messaggio forte di solidarietà a tutti e anche quest'anno rimarremo su questa distanza di mille chilometri. Nadia ha fatto tanto per la città di Taranto, potevo partire da qualsiasi parte d'Italia ma quest'anno ho voluto scegliere Brescia, il nostro modo per dire grazie per tutto quello che ha fatto per la città di Taranto. Si prepara la partenza di ottobre, 1046 chilometri, 60 ore in sella ad una bici perché più forte soffia il vento e più forte vado.